Come si cercano gli esercizi in CreaVerifiche? Per prima cosa, entra in CreaVerifiche con le tue credenziali MyZanichelli. Se non le hai, dovrai prima registrarti. Una volta loggato, clicca su Esercizi. Si aprirà una maschera di ricerca. Se scegli tra gli esercizi Zanichelli, troverai gli esercizi delle idee per insegnare dei tuoi libri. Inserisci la materia. Cerca per argomento o per parola chiave. Usa gli altri filtri per raffinare meglio la ricerca. Autori, libri, tipi di esercizi. Clicca su Cerca e in pochi secondi appariranno gli esercizi. Cliccando su Anteprima, vedrai la domanda completa e la soluzione dell'esercizio. Puoi scegliere anche tra gli speciali Zanichelli, pensati per le prove comuni e le prove d'ingresso, oppure tra gli esercizi in valsi ufficiali. Se invece vai su I tuoi esercizi, trovi gli esercizi che hai già modificato, dal più recente in poi. Crea verifiche. Tante idee per creare la tua verifica in meno tempo. Zanichelli. Idee per insegnare. Idee per imparare.